Buongiorno, sono Luca Tagliano, ricercatore dell'INAIL e presento questo lavoro a nome del gruppo di lavoro congiunto INAIL-ISTAT. In questo lavoro abbiamo applicato una tecnica di record linkage tra due archivi, l'archivio INAIL delle richieste di indennizzo per incidenti stradali professionali e in itinere e l'archivio ISTAT degli incidenti stradali sul territorio nazionale con morti o feriti, entrambi occorsi tra il 2014 e il 2018. Il contributo innovativo di questo lavoro consiste da un lato dal ruolo svolto dai gestori dei dati, ovvero due enti pubblici distinti, entrambi coproprietari e co-gestori del progetto, dall'altro nell'applicazione di due diverse tecniche di record linkage in sequenza, una di tipo deterministico e una di tipo probabilistico. L'obiettivo è quello di aumentare il numero di record linkati rispetto all'utilizzo di un solo metodo e di produrre un dataset integrato degli incidenti stradali, composto dall'informazione occupazionale registrata dall'INAIL e dall'informazione riguardante il veicolo, la strada e le informazioni geografiche registrata dall'ISTAT. È stata necessaria innanzitutto una preelaborazione dei dati, in modo che i record fossero comparabili e si riferissero entrambi alla stessa entità, in questo caso la singola persona coinvolta nell'incidente. La prima operazione eseguita è stata un linkage deterministico, in cui l'esito del linkage per ogni coppia di record è certo, match o non match. Sui residui di questo passo, ovvero sui record rimasti non linkati, è stato eseguito un algoritmo di tipo probabilistico, ovvero un algoritmo che assegna ad ogni coppia di record una probabilità di rappresentare la stessa unità. Successivamente sono stati eseguiti dei filtri, sia per aumentare la probabilità che i record fossero effettivamente linkati, sia per cercare di ottenere ulteriori linkati, utilizzando questi filtri sui residui dell'algoritmo probabilistico. Il risultato è stato un aumento significativo delle coppie linkate, con un'alta affidabilità, una condivisibilità dei dati tra due soggetti distinti grazie all'uso di un software open source, Relase, e la produzione di un dataset integrato degli incidenti stradali, che permetterà di acquisire nuove conoscenze sul fenomeno degli incidenti stradali.